Quest'anno abbiamo raggiunto i 30 anni di servizio presso l'ospedale di Belluno, di Pieve e presso la casa di riposo. Contribuire ad alleviare i disagi delle persone ricoverate, offrire un gesto di vicinanza, una parola gentile. Traguardo speciale in questo 2022 per l'Avo di Belluno, l'associazione volontari ospedalieri Onlus che ha festeggiato i 30 anni di attività. Noi ci relazioniamo appunto con le persone ammalate che sono in una condizione di fragilità e cerchiamo di tenere loro compagnia e di aiutarle a superare dei momenti di solitudine e di scoraggiamento. Reciprocità, sussidiarietà, solidarietà civile ed umana sono i valori che da sempre guidano l'associazione. Attualmente i volontari prestano il proprio servizio al pronto soccorso di Belluno e alla casa di riposo Gaggialante. Siamo operativi, io aggiungo sono anche responsabile dei volontari del pronto soccorso, siamo operativi dopo il lockdown del covid. Sono entrata nel 92 e il mio spirito era proprio quello di stare vicino a queste persone e di dare la mia disponibilità. Una cinquantina in questo momento i volontari impegnati. Noi ci siamo sempre considerati una grande famiglia con tanta volontà di proseguire e di sentirci utili e vicini a tutte le fragilità che incontriamo. Facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi 30 anni, Lavo Belluno guarda il futuro con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria base associativa per essere sempre con atteggiamento compassionevole e rispettoso come quello di amici e conoscenti al servizio del prossimo. Abbiamo intenzione di organizzare un corso di formazione all'inizio del nuovo anno, molto presto. Questa è la nostra intenzione per avere nuove entrate, diciamo così, fresche.